Un argomento molto discusso è se le criptovalute sono o meno denaro. La domanda vera, per rispondere a questa, sarebbe che cos'è il denaro. Non c'è una risposta unico. Se facessimo questa domanda, 10 persone in questa sala, avremo probabilmente 10 risposte diverse. Contare la storia del denaro, come di qualsiasi altra cosa, è sempre più utile. Perde sempre più il contatto del valore della moneta con un asset materiale, che ha un valore intrinsico, diventa il titolo di credito e diventa poi informazione digitale. E cos'è la criptovalute? È un registro distribuito. Fermandoci qui, non c'è differenza ontologica tra denaro e criptovalute, che non è un caso. Quando quindi il criptovalute saranno tutti gli effetti di denaro? Quando i criteri di emissioni saranno democratici come sono democratici su livello del denaro? Cioè quando la decisione di quanta criptovalute mettere nel circuito sia condivisa con i partecipanti a un network dei nostri. Fornettamente vediamo le cose dal punto di vista abbastanza diversi, quindi mi sembra molto interessante questo incontro. Comincerò a parlare soltanto dei bitcoin. Per rispondere anche alla domanda se i bitcoin sono stati una bolla. Vediamo come criptovalute e criptoasset, nell'ottica della vigilanza europea e anche italiana, tendono ad avvicinarsi. Si inizia di criptovalute in termini di strumento di investimento.